Novità in arrivo per il settore trasporti, ad annunciare l'assessore al ramo della regione Campania, Sergio Vetrella, che fa il punto sulle novità previste per il settore in seguito alle leggi nazionali e all'approvazione della finanziaria regionale 2013. Stop all'aumento delle tariffe dei biglietti, nuova programmazione dei servizi e banni di gara entro quattro mesi. Nascita di un comitato unificato per la gestione dei trasporti, questi i principali cambiamenti. Cambiano molte cose, cambia il discorso con la legge di stabilità della riprogrammazione di tutti i servizi sul territorio, che dobbiamo fare entro quattro mesi, cambia il discorso che da un punto di vista dell'ottimizzazione del sistema con il fondo nazionale possiamo partire finalmente con le gare. E la cosa più importante è che allo stato attuale noi stiamo mettendo insieme il criterio di organizzazione per quanto riguarda la gestione e il controllo del sistema dei trasporti, attraverso la partecipazione degli enti locali, però con l'individuazione di un bacino unico.